E' stato un evento unico, irripetibile. Io mi sentivo assolutamente colpita, affranta, senza parole, un po' come tutti. Ci siamo trovati di fronte a un evento spartiacque, un evento assolutamente unico, un evento che ci avrebbe portato di fronte a una nuova possibilità. Ricordo quella sera di essermi addormentata con le parole di una poetessa, Mariangela Gualtieri, che diceva eravamo sempre fuori di noi, ci dovevamo formare, lo sapevamo, tutti dentro le cose, ad agitare le ore, a farle fruttare. Ricordo di essermi addormentata quella sera di fronte alla possibilità che in qualche modo il mondo sarebbe cambiato, come un po' tutti noi. E quella notte ho fatto un sogno molto irrequieto, un sogno molto strano, un sogno in cui mi trovavo in una sorta di cinema abbandonato, un cinema in cui vi erano delle persone che abitavano la sala. Alcuni avevano costruito delle piccole dimore sotto le sedie, altri ancora invece avevano iniziato a utilizzare il bagno per cercare di fare delle docce, altri ancora invece lo utilizzavano per guardare delle immagini. Le immagini che scorrevano sullo schermo erano immagini di un mondo che stava scomparendo, quasi immagini e reperti archeologici. Il cinema e l'archeologia delle immagini, diceva Bernardo Bertolucci. Attraverso le immagini, attraverso questi pensieri brillanti, mi sono ritrovata a ripensare a quello che voleva dire, al fatto che il Covid aveva portato, in qualche modo, una nuova prospettiva. Il Covid in fondo ci aveva portato a scoprire tutta una serie di nervi della società, ci aveva portato come una sorta di navicella spaziale nel futuro. Nel futuro ci siamo trovati a chiederci che ruolo avessero le immagini, che ruolo avesse la creatività, quale nuova strada, quale nuovo desiderio, quale nuova necessità. Ed eccoci di fronte a una rivoluzione digitale inesorabile, un'accelerazione imponente e impossibile da fermare, un'accelerazione che ci ha portato a renderci conto nel nostro messiere, quello di chi lavora con le immagini, i registi, gli artisti, ma i creativi in genere, che forse dovevamo trovare nuove strade. Nel mio mestiere ci sono state tre accelerazioni molto imponenti. La prima, tutti noi abbiamo iniziato a desiderare di avere dei contenuti più a portata di mano, di dita. Inoltre, abbiamo iniziato a chiederci che cosa volesse dire veramente cinema, che cosa volesse davvero dire, fare uno sforzo economico e fisico e collettivo per andare a vedere una pellicola. E non bastava più il global franchise, non bastava più infarcire di gossip e star la visione, ma ci voleva qualcosa di più, ci voleva il ragionamento sulla forma cinema. In secondo luogo, abbiamo capito che era necessario il fondo pubblico. Il fondo pubblico per sostenere l'audiovisivo prima era importante, ora era determinante. In terzo luogo, ci siamo resi conto in questa accelerazione che solo i più forti sono riusciti a sopravvivere. I big hanno vacillato, i piccoli sono crollati e in qualche modo si è sparso la voce che di fronte a questa inesorabile onda della storia ci doveva essere una sorta di resistenza quasi impossibile da organizzare in poco tempo. Lo stato dell'arte, a che punto siamo? Siamo al 71% della decrescita degli incassi e delle presenze rispetto al 2019. I set sono bloccati, i contenuti, diciamo, sono stati bloccati dall'impossibilità di ripartire velocemente. In terzo luogo, c'è stato un boom dei servizi di streaming. Siamo passati al più 26% e contate che addirittura incassano cinque volte più del box office da 60 miliardi a 12 miliardi di dollari. Inoltre, siamo tornati a una sorta di annullamento dei festival in presenza. In che senso? I festival sono diventati in una forma ibrida tra l'online e la presenza. E questo ha comportato che il cinema, diciamo, d'autore è arrivato nelle piattaforme digitali ma allo stesso tempo è stato considerato in maniera democratica e quindi si è allargato il pubblico e il bacino d'utenza. Ecco, nel 1895 i fratelli Lumière dicevano il cinema è un'invenzione senza futuro. Una delle tante morti del cinema, una delle tanti morti esancite nel cinema durante i secoli. La prima volta è stata con l'avvento del colore e del suono. La seconda volta si è parlato di morte del cinema con lo zapping ovvero con la possibilità come diceva Greenway di utilizzare il proprio semplice telecomando per decidere in maniera solitaria, arbitraria, individuale che cosa si voleva scegliere. E in terzo luogo, ovviamente, il momento in cui siamo ora. Il boom dei servizi di streaming e non solo delle nuove tecnologie. Ma quindi, se il cinema in qualche modo è morto, a che punto siamo? Beh, io non credo che il cinema sia morto. In fondo siamo ancora, in questi giorni, dopo questi due anni, nelle sale. E quindi cosa sta succedendo se il cinema in fondo non è morto, come dicono, da quasi un secolo? Il cinema si è trasformato. E in che cosa si è trasformato? Utilizzo questo termine, che non è mio, ma è di Simone Arcagni, che è uno studioso di nuovi media e di culture digitali. Simone Arcagni scrive in Cinema Futuro, il futuribile del cinema, un tema molto interessante. Teorizza una cosa che a noi servirà moltissimo nel corso di questo talk. Dice che il cinema non è morto perché il cinema si colloca nel futuro. Il cinema è sempre prospettiva, orizzonte. In che senso? Il cinema, nel momento in cui si ibrida con le nuove tecnologie, in cui diventa videoarte, in cui diventa elettronica, in cui diventa digitale, il cinema esiste. Il cinema si espande, come diceva Youngblood, nel momento in cui si espande diventa realmente quello che è la sua natura. Tanto è vero che siamo passati dall'idea di cinema come sostantivo all'idea di cinematico come aggettivo, dalla rigidità alla leggerezza, quindi nomadico, flessibile, che può cambiare, cangevole e che può raccontare il presente. Lo scrive Luca Berbeni. Ma in questo ci chiediamo come questo possa forse raccontare una simbiosi più complessa, una simbiosi tra umano e macchina, tra biologia e natura, tra natura e cultura. Eppure, allora, diciamo che l'incubo di cui vi ho parlato all'inizio potrebbe sembrare una favola a questo punto. Il mondo sta crollando, tutto cambia, i cinema vengono chiusi, eppure il cinema sopravvive. E invece siamo di fronte a un paradosso. dietro ogni dispositivo il più geniale si c'è l'umano, scrive Giorgio Gamben. Sì, perché siamo di fronte alla chimera autoprodotta dell'Homunculus del Faust, ovvero siamo di fronte a un piccolo uomo formato attraverso l'alchimia che cerca di essere autartico. Oppure siamo di fronte a quella novella di Edgar Allan Poe in cui si parla del giocatore di scacchi, un celebre automa che va in giro per le corti europee vincendo tutte le partite. Ma dietro quell'automa in realtà si cela semplicemente un uomo che cerca di maneggiare per vincere questo che è un marchingenio antropomorfo. Siamo di fronte quindi al fatto che dietro ogni tecnologia, dietro ogni dispositivo che diventa violento, dominante, che ci sovrasse in fondo ci siamo sempre solo noi. che immagini produciamo oggi? Sono immagini immersive, sono immagini sensoriali, sensitive, sono immagini che cercano di connettersi con l'altro e con l'altrove. E in questo, anche se il cinema in qualche modo è stressato nei suoi parametri, cambia perché le tecnologie cambiano, il cinema cerca sempre quell'altro e quell'altrove. Lo fa attraverso lo schermo, gli schermi e a volte lo fa anche nella vita. Grazie. 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 Grazie.